Salve a tutti ragazzi, bentornati su The Science Lab. Oggi realizzeremo il nostro primo esperimento all'aperto. I protagonisti della reazione di oggi sono il bicarbonato di sodio e l'acido acetico, con cui realizzeremo il nostro razzo. Nella prima parte dell'esperimento vi faremo vedere come realizzare il razzo, con che materiali costruirlo, così che possiate rifarlo a casa. Nella seconda parte invece lo lancieremo insieme. Andiamo a vedere come si costruisce. Per il nostro razzo ci serviranno dell'aceto, del bicarbonato, una bottiglia da 2 litri, della colla attaccatutto, della tempera colorata con un pennello, dei tappi di sughero, del cartone, un cartoncino colorato. Per iniziare disegniamo un triangolo isocele sul nostro cartoncino colorato. Lo ritagliamo. Lo arrotoliamo per fare un cono, che sarà la punta del razzo. Dopodiché disegniamo un triangolo anche sul cartone, che taglieremo per fare le nostre ali, facendo attenzione a creare delle alette che ci serviranno per attaccarlo sulla bottiglia. Coloriamo con della tempera le ali di cartone. A questo punto incolliamo il nostro cono alla base della bottiglia per creare la punta del razzo e le ali sui lati. Ora il nostro razzo è completato e siamo pronti per il lancio. A presto. 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 Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.